Ciao amici, oggi parliamo della pianta di lampacione, ovvero cipollina selvatica. Verso la fine di marzo, fino a metà aprile, durante le passeggiate nei campi, spesso ci imbattiamo in questi fiori. Non camminiamoci su, perché sono piante di lampacioni, ovvero cipolline selvatiche. Crescono spontanee e sono un vero dono della natura. Oggi raccogliamo insieme questo gustosissimo frutto selvatico, che la natura ci offre spontaneamente. Moniamoci di una zappetta di ferro appuntita da un lato. Scaviamo lontani circa 5 cm dal fiore, per una profondità di 10 cm circa. Ed estraiamo tranquillamente da sottoterra il nostro lampacione, ovvero cipollina selvatica. Continuiamo a raccogliere e fare provviste. Raccogliamoli tutti, perché sono ottimi nella cucina italiana, ma anche da conservare freschi o sottorio. Ed ecco la nostra raccolta, impiegando 30 minuti della nostra passeggiata. In un altro video vi farò vedere come conservarli freschi, con il metodo della nonna. Se ti è piaciuto il video, lascia un like ed iscriviti al canale, così da rimanere sempre aggiornato. Ciao!